Buonasera ragazzi, benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 22 novembre 2018 e nei video di oggi voglio commentare insieme a voi quanto è accaduto nelle ultime 24 ore al prezzo di Bitcoin e al mondo delle crypto in generale guardando CoinMarketCap. Guardiamo insieme il grafico di Bitcoin per capire dove ci siamo fermati con il prezzo di Bitcoin e se potrebbe accadere che nei prossimi giorni vedremo degli altri ribassi o magari potremmo rimbalzare tornando a testare la resistenza dei 5.000 e dopo analizziamo insieme tre motivazioni, tre ragioni che potrebbero essere la causa di questi recenti dump nel prezzo di Bitcoin e di conseguenza in tutto il mercato delle criptovalute. Quindi mi raccomando ragazzi se non siete iscritti iscriviti al canale, cliccate iscriviti e cliccate la campanellina se siete già iscritti continuiamo così, grazie per il vostro supporto, grazie per i vostri commenti e per la vostra partecipazione. Allora ragazzi guardiamo CoinMarketCap, oggi abbiamo un Bitcoin che è praticamente fermo rispetto a 24 ore fa segna un più 0,11%, il mercato è relativamente stabile rispetto a 24 ore fa una capitalizzazione ferma intorno ai 147 miliardi di dollari qualche giorno fa eravamo intorno ai 180-185 un volume di scambi che rispetto a qualche giorno fa si è abbassato forse ricordate che eravamo a 21 miliardi di scambi, adesso siamo scesi a 14 questo è un segnale che potrebbe erserci un altro movimento intenso nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore quindi quando si assiste a un calo dei volumi è perché ci si sta preparando a qualche movimento più intenso la Bitcoin dominance più o meno sempre ferma al 53,3% vediamo che è il primo giorno dopo una lunga serie dove Bitcoin performa meglio di XRP che oggi è in leggerissima perdita ma comunque rimane invariato a 43 centesimi sembra che mantenga XRP saldamente il secondo posto su CoinMarketCap davanti ad Ethereum perché il gap tra le due capitalizzazioni di XRP e di Ethereum si sta un pochino espandendo siamo 17 miliardi di capitalizzazione contro 13 miliardi di capitalizzazione quindi in questo momento sembra che XRP riesca a mantenere saldamente il secondo posto sicuramente Ethereum e la bolla delle ICO non stanno aiutando Ethereum in questo momento che è a 132 dollari vediamo se c'è qualcosa da segnalare in particolare crescita abbiamo che performano positivamente oggi Aurora, Ogur, Golem e ARK mentre vediamo performare negativamente tra le prime 100 cripto Moac, Metaverse, Bitcoin Cash e Maker passiamo a guardare il grafico di Bitcoin in questo momento su Binance siamo a 4565 dollari vediamo che sul giornaliero ancora sia lo stocastico che l'RSI vediamo se riesco ad allargare la visuale sia lo stocastico che l'RSI sono ancora in una posizione di oversold quindi sovravenduti questo potrebbe farci pensare che potremmo assistere ad un rimbalzo nei prossimi giorni o nelle prossime ore e magari eventualmente tornare a testare il livello prezzo di 4008 piuttosto che dei 5002 e vedere se agiranno questi prezzi come resistenze quindi ovviamente ragazzi prendete quello che vi dico non come consigli di investimento fate sempre le vostre ricerche prima di investire però in questo momento tutti gli indicatori ci dicono che il momentum di vendita ha praticamente raggiunto il suo massimo picco qualche giorno fa vediamo in questo momento questa zona blu che vi ho segnalato è una zona di forte price action che corrisponde a questa zona qui dove c'è stata un'intensa price action appunto l'anno scorso più di un anno e mezzo fa perché eravamo a fine agosto inizio settembre scorso il prezzo di bitcoin ha rimbalzato un pochino all'interno di questa zona qua che è costituita dalla linea più bassa ad un prezzo molto vicino ai 3000 dollari e il punto più alto l'abbiamo già bucato perché era 4000 vicino ai 4850 dollari quindi in questo momento siamo in una zona dove non credo perlomeno vedremo altre discese vorticose perché c'è stata forte price action un anno fa nella medesima zona nel medesimo livello prezzi però ovviamente stiamo a vedere molto interessante che cosa succederà nelle prossime ore perché il volume sta di nuovo scendendo come vi dicevo quindi potremmo vedere un movimento intenso in entrambe le direzioni passiamo a commentare quelli che sono i motivi che potrebbero essere causa di questo recente dump di bitcoin e del mercato delle cripto ovviamente è comodo per noi cercare di trovare delle giustificazioni razionali a quello che è accaduto in modo anche da individuare appunto delle cause che potrebbero terminare per poi ripartire e iniziare a salire verso un bull market la prima motivazione che è quella più sistemica e in qualche modo ciclica riguarda logicamente il ciclo naturale passatemi il termine che per forza bitcoin o comunque le criptovalute devono sperimentare per cui come vedete questo grafico individua i vari momenti del ciclo sappiamo benissimo che a inizio gennaio fine dicembre scorso eravamo in questa fase qui in cui tutti erano entusiasti c'era massimo entusiasmo massima grid quindi massima avidità tutti volevano comprare bitcoin e poi abbiamo affrontato una fase forte di bear market che pensavamo si fosse conclusa con un periodo di forte stabilità intorno ai 6.000-6.100 dollari ma abbiamo visto che invece non si è conclusa perché siamo scesi molto vicino ai 4.000 dollari quindi potrebbe essere che in questo momento siamo in questa fase del despair quindi della disperazione anche se forse c'è ancora troppo ottimismo nell'aria per dire che siamo nella fase della disperazione che è l'ultima prima di poter vedere una ripresa dei mercati fatemi sapere secondo voi in quale fase siamo se quella della paura della capitolazione o della disperazione comunque la prima causa è semplicemente il fatto che si tratta di un ciclo e ovviamente ogni ciclo ogni ciclo deve affrontare tutte le sue fasi ed è necessario per poter ripartire secondo motivo interessante che potrebbe giustificare questo recente crollo dei prezzi ed è particolare perché è anche il motivo per cui si pensava che Bitcoin invece sarebbe risalito non sarebbe mai sceso sotto i 6.000 dollari è l'arrivo degli istituzionali in questo mercato come sapete benissimo sia la SEC che altre istituzionali stanno lavorando per entrare all'interno di questo mercato sia tramite l'approvazione di un ETF che tramite la creazione di questa piattaforma che si chiama BACT che permetterà agli istituzionali di comprare criptovalute e si specula che l'arrivo degli istituzionali abbia causato il recente dump sul mercato questo perché gli istituzionali a differenza dei retail investor sono più nel senso non è che sono più furbi però hanno i mezzi per poter decidere loro quello che è il punto di ingresso che sono disponibili ad accettare quando fanno un investimento quindi si dice spesso che i retail investor quando il treno è partito il treno l'ha perso invece gli istituzionali sono in grado di far tornare indietro il treno a livello prezzi a cui che più gli sta bene per iniziare a investire per cui se immaginate sicuramente le banche o le istituzioni hanno se devono entrare in un mercato preferiscono entrare quando Bitcoin è a 3.000 4.000 dollari piuttosto che Bitcoin a 10.000 20.000 quindi particolare immaginare come gli istituzionali abbiano deciso di far crollare le criptovalute per avere un punto d'ingresso più agevole per i loro investitori terzo motivo anche qui molto discorso sul canale riguarda la recente fork la recente il recente dramma che c'è stato per quello che riguarda Bitcoin Cash come immagino sapete il 15 di novembre la blockchain di Bitcoin Cash si è forcata in due diverse blockchain la prima è Bitcoin Cash ABC la seconda è Bitcoin Cash SV Satoshi's Vision e si specula che questa fork abbia generato fortissima instabilità e di conseguenza molte persone che avevano investito in Bitcoin abbiano venduto perché ritengono che il mercato sia ancora molto immaturo c'è stata una vera propria battaglia praticamente infantile tra Craig Wright da una parte e Roger Ver dall'altra per insomma per andare a determinare quello che sarebbe stata la fork di Bitcoin Cash che avrebbe vinto tra le due questa guerra sostanzialmente un po' infantile un po' adolescenziale tra questi due personaggi sicuramente è un segnale che il mercato non è ancora maturo e che i personaggi che lo possono governare e comandare magari a volte non rispondono a criteri di logica che sono condivisibili e quindi si specula che questa incertezza causata dalla fork di Bitcoin Cash abbia causato molte persone ad uscire dal mercato perché ritengono che le persone che possono influenzarlo siano ancora manifestino segni di immaturità e poca stabilità ecco spero di essermi spiegato quindi questo è il terzo motivo la terza giustificazione potrebbe essere ovviamente una somma delle tre motivazioni che vi ho raccontato anzi credo che credo che sia la somma di queste tre ad aver causato il recente dump per oggi è tutto ragazzi spero che il video sia stato interessante se avete qualcosa da aggiungere ovviamente scrivetelo nei commenti se il video vi è piaciuto mettete un like vi ringrazio per la vostra attenzione ci vediamo al prossimo episodio ciao